1.321.720 euro per il rifacimento completo della scuola primaria di Casa Bianca a Ponte Bugianese. Lavori che trasformeranno completamente l'edificio scolastico esistente. Il progetto prevede importanti opere strutturali, la creazione del piano rigido di sottotetto, la sostituzione del controsoffitto esistente, il rinforzo delle travinciamento armato, la sostituzione delle strutture di copertura e la loro impermeabilizzazione, oltre alla previsione di opere di messa in sicurezza antincendio. Attualmente ospita 5 classi, le presenze all'interno della scuola di Casa Bianca sono inferiori a 100 contemporaneamente e questa scuola sarà ridistribuita negli spazi, non ci sarà un ampliamento ma sarà ovviamente mantenuta per 5 classi, sarà fatto il bagno handicap che attualmente è stato abbozzato ma che sarà poi realizzato in futuro in maniera tale da dare spazio ai disabili, in maniera concreta, ovviamente abbattimento totale delle barriere architettoniche. Essendo contributi nazionali il cui ribasso non può essere speso per opere aggiuntive, sarà possibile effettuare lavori come il rifacimento del marciapiede perimetrale, l'illuminazione a led, un impianto fotovoltaico sul tetto, un impianto solare termico, il rifacimento del muro perimetrale, oltre ad una nuova piantumazione di siepe e piante ad alto fusto. Dove saranno trasferiti questi ragazzi che sono qui a Casa Bianca? Noi crediamo che i lavori qui a Casa Bianca, essendo ottimisti, non potranno partire prima di gennaio o febbraio del prossimo anno, quindi la scuola inizierà sicuramente qui a Casa Bianca per le classi che ci saranno e dopo vedremo idee dove portarle, ovviamente abbiamo a disposizione la dogana ma non scartiamo altre soluzioni dato il fatto che non è da spostare 12 classi ma bensì 4 classi perché il prossimo anno purtroppo qui non si è formata la prima. Com'è la situazione appunto a scuole e nel comune? Proprio stamani delibereremo un progetto da 3 milioni di euro per una nuova scuola dell'infanzia a Ponte Bugianese al Capoluogo in sostituzione del Trova Amici che ha delle problematiche anche di spazi per le quali vogliamo intervenire con 5 nuove aule.